Il Consiglio regionale ha approvato due diverse mozioni per il salario minimo, con il voto favorevole di PD e Movimento 5 Stelle. La prima, presentata dalla consigliera Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, chiede alla Regione di adoperarsi presso il Governo per far progredire l'iter della proposta di legge sul salario minimo orario, istituendo anche una commissione apposita che, periodicamente, proponga l'aggiornamento dell'entità del salario minimo. La seconda mozione, presentata dalla consigliera Ilaria Bugetti del PD, avanza la richiesta al Governo di non sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge 1275. Noi abbiamo emendato, ed è stato accolto dal Movimento 5 Stelle, gli emendamenti che il PD ha presentato, e la nostra partiva dà la richiesta al Governo affinché non venisse soppresso, perché c'è stato un emendamento a luglio scorso che in Commissione parlamentare, Commissione lavoro, chiedeva la soppressione dell'articolo 1, quindi di fatto quella sul salario minimo. E noi abbiamo fatto questa impegnativa alla Giunta affinché in conferenza Stato-Regioni e al Governo chiedesse di non sopprimere l'articolo 1. Per noi è una battaglia importante, perché già in Regione Toscana nel febbraio scorso abbiamo approvato una legge che riguarda gli appalti pubblici della Regione Toscana, ma anche degli enti collegati, quindi Estar, parchi regionali, che prevedesse il salario giusto ed attuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle aziende che partecipano ai bandi della Regione Toscana ci fosse un equo reddito dei propri dipendenti. Quindi questo ci sembrava il primo passo. Ancora oggi unica Regione in Italia aver fatto questo passo, che era un'indicazione per le linee guida alla Giunta regionale. Detto questo, il lavoro nostro si ferma per competenza a quel livello e abbiamo chiesto che al Governo facessero un passo in più. Il PD in questo momento si sta mobilitando, non solo il PD, ma con altre forze politiche. E quindi ci sembrava giusto, con quelle forze politiche che stanno condividendo questa battaglia, di affiancare questo lavoro che stanno facendo in Parlamento. È un segnale di dignità anche perché la Germania ha innalzato la soglia del lavoro minimo a 12 euro, ma è previsto anche che venga innalzato, parametrato a quello che era il paniere d'acquisto dei cittadini in un momento così difficile di inflazione. Quella è la base minima di partenza, che non va a tancare poi i redditi, i lavori più alti, che sono poi oggetto di altre contrattazioni collettive. Quindi questo riguarda i precari, le persone in difficoltà e lo sfruttamento del lavoro, ma anche i contratti pirata. Quindi c'è tutto un tema grande che noi riteniamo dignitoso e è una delle nostre battaglie principali. Questa mozione risale al 2022, da quando abbiamo iniziato a intraprendere questa battaglia per il salario minimo orario, che oggi appare sempre di più come una battaglia di civiltà. Per tutti quei lavoratori poveri, con delle soglie di reddito che arrivano a 3 euro all'ora e quindi con delle cifre che non permettono neanche di sopravvivere al rincaro delle bollette, degli alimenti, di tutto quello che è il costo della vita. E ci ha colpito veramente il vedere le destre che non hanno votato o hanno votato contro a quello che è davvero un andare incontro alle tante famiglie che in questo momento non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Si parla di 3,6 milioni di lavoratori in Italia, in Toscana molti di essi sono persone che lavorano nel mondo nel settore del turismo, come è stato identificato da IRPET, ma ci sono anche tantissimi giovani, ci sono tantissime donne e spesso delle famiglie con un solo genitore. Quindi questo riuscire ad approvare il salario minimo orario significherebbe per tutte queste persone una boccata d'ossigeno e soprattutto veder riconosciuto il diritto costituzionale del primo articolo della Costituzione, del numero 36, che dice che il lavoro deve essere retribuito con un'adeguata quantità di denaro per l'impegno che la persona ci mette. Questa è una battaglia che va a tutela della qualità della vita delle persone, non soltanto ma anche della dignità del tempo e della vita di tutte le persone. Il tema del salario minimo è un tema importantissimo, è un tema e io ringrazio veramente le opposizioni per aver fatto questo dibattito in aula, era impensabile che la regione toscana non affrontasse il dibattito su uno dei temi principali dell'agenda politica nazionale. Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di non votare la mozione proposta dal Partito Democratico perché siamo in linea con quanto chiesto dalla Presidente del Consiglio Meloni. La Presidente del Consiglio Meloni ha detto in maniera chiara di non essere ideologicamente contraria al salario minimo, di condividere con chi è promotore della proposta per il salario minimo l'obiettivo finale del percorso che deve essere quello di migliorare il potere di acquisto dei salari italiani perché va superata l'epoca del salario a basso costo da cui stiamo uscendo con grande difficoltà, anzi stavamo uscendo con grande difficoltà prima di imbattersi nella crescita esponenziale dell'inflazione, ma non è detto che il salario minimo sia l'unica proposta percorribile, l'unica strada percorribile. Il Governo italiano ha mandato al CNEL di elaborare altre proposte, ha dato 60 giorni di tempo al CNEL per elaborare altre proposte, i 60 giorni finiranno all'incirca ad inizio ottobre, prima della metà di ottobre. Non vedo perché non si debba aspettare di avere sul tavolo tutte le varie opzioni per poi poter scegliere quella migliore, ma che si fa? A dieci giorni dall'arrivo sul tavolo della proposta del Governo si porta in aula una mozione per sposare in maniera ideologica quella battaglia del salario minimo garantito. Il Partito Democratico l'ha fatta in termini per i quali ci siamo sentiti di astenerci unicamente perché non vogliamo bocciare in maniera aprioristica questa strada, potrebbe anche essere l'unica percorribile, a quel punto la sposeremo anche noi. Io oggi continuo a pensare che se in Italia ci fosse il salario minimo garantito già legge oggi alcuni grandi agglomerati economici, alcuni grandi multinazionali, alcuni grandi blocchi di potere economico che oggi sono costretti a ricorrere alla contrattazione collettiva nazionale, tra contrattazione collettiva nazionale e salario minimo sceglierebbero il salario minimo per guadagnarci loro alla faccia dei lavoratori. Ma se poi uscirà fuori che il salario minimo è l'unica strada, va bene sposare quella. Votiamo contro la proposta di 5 Stelle perché è un manifesto ideologico del Governo Conte e crediamo che il Governo Conte di danni ne abbia fatti talmente tanti che riproporli. Oggi ci sembra una follia. Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, una mozione, primo firmatario Vincenzo Ceccarelli del PD, che impegna la Giunta ad attivarsi in merito all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di folgorazione dei pescatori in prossimità degli impianti elettrici, dopo il caso del ventenne morto folgorato sul torrente Archiano, in provincia di Arezzo, perché presumibilmente la sua canna da pesca in carbonio è venuta a contatto con una linea elettrica. Tra le azioni da mettere in campo ci sono cartellonistica, campagne di sensibilizzazione e un sistema di isolamento dei cavi di alta tensione, qualora siano presenti all'interno di aree dove è consentita l'attività di pesca. La mozione che abbiamo presentato, come lei diceva, ha preso spunto proprio da questo fatto tragico accaduto qualche settimana fa nel torrente Archiano, nel comune di Bibiana, che è costata la vita purtroppo ad un giovane di 20 anni e non è neanche la prima volta che accade un fatto così tragico. Quindi prendendo spunto da questo fatto tragico ed esprimendo la nostra vicinanza alla famiglia, noi dobbiamo attivarci perché questi fatti possibilmente non accadono più. Cosa occorre fare allora? Occorre sicuramente mettere in campo tutte quelle misure che servono per cercare di eliminare la vicinanza tra queste canne al carbonio che vengono utilizzate perché sono leggere, hanno grande resistenza ma anche hanno una grande conduttività. Questo ragazzo forse neanche ha toccato la canna che aveva a mano con i fili della corrente elettrica che attraversa il torrente, ma forse si è addirittura creato quel fenomeno cosiddetto dell'arco elettrico che con una vicinanza ha provocato la folgurazione. Allora chiediamo che si intervenga presso il gestore dell'infrastruttura elettrica affinché vengano messe delle protezioni, vengano quantomeno messe tutte le indicazioni di attenzionamento perché non ci si avvicini a pescare in questi luoghi fino anche a vietare la pesca nelle more della messa in sicurezza tenendo le distanze di sicurezza proprio per evitare questi fatti. Tutto questo magari accompagnato da una promozione di informazione, di sensibilizzazione da portare avanti anche con le associazioni dei pescatori che ovviamente da questo punto di vista sono molto disponibili. Tutto quello che viene fatto in direzione di una maggiore sicurezza sul luogo di lavoro ma anche in genere sulle attività come le attività sportive troverà sempre il nostro appoggio, la nostra considerazione positiva. Mi chiedo però perché vi sia ancora una scarsa campagna di sensibilizzazione a riguardo. Non si può morire così andando a pesca, rimanendo folgorati semplicemente perché utilizzando una canna in carbonio. Mi sembra veramente inammissibile. Dovremmo investire pesantemente per la sicurezza. Quindi al di là delle mozioni di atti di indirizzo, cui abbiamo dato il nostro favorevole voto, dobbiamo metterci i soldi per aumentare la sicurezza. I cittadini devono vivere sicuri. La mia assoluta vicinanza ancora una volta alla famiglia di Giovanni Gabriele. Il fondo Riana Fallaci del Consiglio regionale della Toscana, già disponibile al pubblico dal 2019, diventa pienamente accessibile grazie al volume Il Cuore in Toscana, il fondo Riana Fallaci. L'opera è frutto del lavoro, durato quasi quattro anni, che Archivi e Biblioteca del Consiglio hanno portato avanti insieme per inventariare, catalogare, descrivere e riordinare quasi duemila documenti che costituiscono il fondo, materiale archivistico, tra cui i nastri originali dei colloqui con i grandi personaggi della storia e dossier tematici sul Vietnam, sulla politica italiana e internazionale, sulle missioni aerospaziali, libri e oggetti personali di Oriana Fallaci, donati nel 2016 dall'erede Edoardo Perazzi al Consiglio regionale della Toscana. Il testo si propone come una guida per rendere noto il contenuto del fondo, accompagnando il pubblico alla scoperta della personalità della giornalista e scrittrice fiorentina. Il fondo Oriana Fallaci è una ricchezza per tutta la Toscana, è una ricchezza per tutti noi e allora consentitemi subito di ringraziare il nipote che ha permesso di mettere a disposizione i suoi iscritti, anche quelli ancora non noti alle cittadine e ai cittadini della nostra regione. Permettetemi di ringraziare le curatrici, hanno fatto un lavoro enorme e io vorrei rilanciarlo questo lavoro, vorrei provare a fare in modo che questi iscritti potessero essere tutti digitalizzati per permettere ai cittadini del mondo di poter accedere a un archivio che è unico, un archivio dal valore inestimabile, un archivio in cui si raccontano pezzi di vita, di pensiero di Oriana Fallaci. C'è un messaggio forte che passa, l'importanza di essere donne e uomini liberi, è il valore della libertà, il valore della memoria, ha bisogno di essere coltivato e allora noi vogliamo coltivarlo in questo senso, aprendo le porte di questa biblioteca, di questi spazi del nostro archivio in tutto il mondo. Oggi è una giornata bella, importante e un primo passo, un passo che vogliamo continuare a portare avanti per fare in modo che quella memoria possa essere presente. È una giornata, da un certo punto di vista, per me storica, perché la memoria di Oriana è molto presente, specialmente in questi ultimi anni e rappresenta tanto per i suoi lettori, è una presenza affettuosa, è costante, è una compagnia. In generale diciamo che è una presenza severa e così, però anche di esempio e di insegnamento. Io, come tutti quelli che hanno a che fare col suo lavoro direttamente, sentiamo molto questa giornata perché l'archivio rappresenta un passo fondamentale per mettere a disposizione il lavoro di Oriana e anche in certo senso parte della sua vita, perché gli oggetti contenuti nel fondo, i suoi scritti personali, le lettere sono evocativi e servono molto a capire come questa donna non solo lavorava, ma anche come ragionava e come era fatta, quanto era legata alla sua famiglia e a questa città naturalmente. E poi finalmente è un modo di lavorare snello e a disposizione di tutti. Abbiamo volutamente scelto di lasciare qui a Firenze, mi odieranno gli altri fondi, ma più materiale rispetto alla Boston University e alla Fondazione del CS Corriere della Sera, perché è parso giusto così, perché Firenze è la sua città e il lavoro e gli spazi messi a disposizione dalla Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana sono straordinari. Ci siamo affidati totalmente a questo team di archivisti straordinario, per cui è rassicurante, però è anche tutto molto facile. La pubblicazione addirittura di un manuale per la consultazione è un ulteriore step che francamente non mi aspettavo ed è ancora di più una gioia, veramente. Penso che Oriana sarebbe stata molto molto contenta, fiera, quindi non solo adesso c'è una fermata del tram, Oriana Fallaci, ma un fondo che tutti possono utilizzare per curiosità, per conoscenza. Bello, sono molto contento. Sicuramente un archivio che racconta Oriana Fallaci, che Oriana Fallaci ha voluto, quindi che porta il filtro anche della sua volontà di memoria, di se stessa, del lavoro che ha fatto, del mondo che ha visto e quindi anche del mondo come l'ha interpretato. Ed è un archivio che racconta non solo Oriana Fallaci, ma racconta una parte del Novecento, attraverso le interviste, attraverso i materiali, attraverso anche i materiali sonori, da un certo punto di vista è la voce del Novecento. Naturalmente sempre con il filtro di Oriana Fallaci, questo non va dimenticato. Un atteggiamento critico nei confronti di questo tipo di fonti è sempre molto importante, soprattutto con una personalità come quella della Fallaci, che aveva nello stesso momento l'intento di mettersi in una posizione empatica nei confronti delle persone che intervistava ed era capacissima di farlo, ma anche in una posizione poi giudicante. Quindi c'è la sua interpretazione del secolo, ma c'è anche il suo sguardo, che è uno sguardo anche femminile, nonostante lei abbia voluto che sulla tomba ci fosse scritto scrittore, però è uno sguardo di una donna che è stata capace, effettivamente, anche in modo seduttivo quasi, di far parlare le persone che aveva di fronte. E l'ha fatto anche con una scrittura molto bella, che lei possedeva, diciamo uno strumento che ha usato sempre. Quindi credo che sia sicuramente, insieme ad altre fonti, naturalmente le fonti vanno sempre traguardate una attraverso l'altra, ho riflettuto anche su un aspetto, come due personalità che hanno una storia simile, come Oriana Fallaci e Tiziano Terzani, vengono dal giornalismo, hanno visto il mondo, sono stati sui teatri di guerra, poi abbiano avuto esiti così diversi, no? Basta leggere la lettera che poi Tiziano Terzani scrisse a Oriana Fallaci dopo Le Torre Gemelle, dopo che lei aveva scritto L'orgoglio, no, come è il titolo? La rabbia e l'orgoglio. Ecco, ed è interessante perché è la stessa radicalizzazione del nostro secolo. Da un lato un esito, come dire, un po' bellicoso, come era anche nel carattere di Oriana, e dall'altro un esito invece di segno completamente diverso, pur venendo tutte e due dalle stesse radici, dal lavoro di giornalismo, tutte e due toscani, tra l'altro. Quindi, ecco, è molto interessante tutto questo, credo che questo luogo e il Consiglio regionale che prende l'archivio siano i luoghi, come dire, più indicati per poter veramente restituire poi a chi vorrà consultarle queste carte, così anche la pregnanza del loro contenuto. Siamo finalmente arrivati alla pubblicazione del volume, anche se il lavoro di riordino e di catalogazione della biblioteca era già stato completato, avevamo già reso accessibili questi materiali a chi ce l'aveva fatto richiesta, però a questo punto, con questa pubblicazione, che tra l'altro è anche in formato digitale sul nostro sito, è possibile per chiunque, quindi non solo studiosi, ma anche curiosi, appassionati, amanti della scrittura di Oriana Fallaci, vedere che cosa possediamo e fare eventualmente richiesta per consultare questo materiale. Trovate tutte le indicazioni sui nostri siti, ci sono due pagine dedicate, una della biblioteca e una del Consiglio, e c'è un indirizzo mail comune al quale fa riferimento per qualsiasi informazione, anche per ricerche che noi possiamo fare a distanza. L'indirizzo è fondofallaci.chiocciolaconsiglio.regione.toscana.it Credo che l'importanza di questo fondo sia il scoprire il lavoro minuzioso e la personalità della Fallaci dietro vi quinte, quindi tutto quello che era di preparazione ai suoi straordinari articoli, ai suoi straordinari libri, perché dietro appunto alla grande scrittrice c'è un grandissimo personaggio che naturalmente è ricco di sfaccettature, ma soprattutto è ricco di umanità. E questo traspare anche proprio dal suo lavoro, che poi era la sua vita, perché lei veramente ha dedicato la vita al lavoro, parlava dei suoi libri come dei suoi figli, e quindi è un lavoro molto, molto... è una continua lotta, diciamo, corpo a corpo, con la parola, con la scrittura, nell'elaborazione delle idee. Quindi questa magica scrittura della Fallaci in realtà ha dietro un grandissimo lavoro, una grandissima fatica. Cioè era sempre una donna con l'elmetto, anche con la scrittura, lei lo diceva questo, però il risultato era straordinario. Quindi questo è molto importante. Io ho avuto la fortuna di assistere a queste fasi di lavorazione, perché ho conosciuto Oriana dopo l'11 settembre, sono stato con lei a New York e sono stato accanto a lei nei periodi di preparazione degli articoli per il Corriere della Sera e anche per la stesura di alcuni libri che lei ha realizzato dopo l'11 settembre.